Confido è un progetto di innovazione sociale finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza, del Consiglio dei Ministri e realizzato dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. L'obiettivo è quello di promuovere e diffondere su tutto il territorio italiano la conoscenza delle pratiche di affido, di adozione nazionale e internazionale e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Sentiamo. Al Via in Puglia il progetto nazionale è targato Forum delle Associazioni Familiari dal titolo Confido, che intende promuovere e diffondere su tutto il territorio italiano la conoscenza delle pratiche di affido, di adozione nazionale e internazionale e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo è quello di agevolare il lavoro quotidiano delle case famiglia e di rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi in attesa di affido o adozione e vittime del fallimento di quest'ultima. Al fine di raggiungere capillarmente le famiglie interessate, l'attività di sensibilizzazione al tema viene portata avanti a livello regionale e coinvolge anche altre regioni italiane oltre alla Puglia. Confido proseguirà anche con i corsi di formazione e orientamento alle famiglie e ai futuri tutori volontari per minori migranti e con eventi di sensibilizzazione e promozione. A livello nazionale saranno realizzate una campagna pubblicitaria via social e un sito di progetto nel quale saranno messe in rete e condivise le buone pratiche su questi temi.